Al centro di Sant'Aga degli Battiati, 300 metri dedicati all'equilibrio fisico-fisico, allo sport e al benessere in un'atmosfera amichevole, divertente e coinvolgente. Leggi nel dettaglio l'offerta di sconton, abbonamento open di 5 mesi alla sala attrezzi e cardio fitness, più due accessi di coppia all'area benessere, sauna e vasca e dromassaggio con durata max 2 ore a 59,90 euro. Tutto questo presso l'Sd Battiati Wellness in via Giuseppe De Felice, 17.